Buongiorno a tutti, bentornati e benvenuti a un nuovo appuntamento con di prima mattina il buongiorno insieme a me ve lo porge Cristian Cristian De Luca che è di là in regia e saluta con la manina. Allora una buona giornata a tutti voi che vi apprestate ad una nuova giornata lavorativa oppure ad andare a scuola o a stare a casa insomma a fare qualcosa di piacevole o di meno piacevole. Però noi cominciamo questa mattina non subito con la rassegna stampa con le prime pagine dei giornali che oggi ovviamente sono piene dei resoconti delle elezioni che ci sono state le europee e le comunali ma vi facciamo subito un riepilogo di quello che abbiamo fatto ieri nel corso della lunga diretta televisiva dalle 15 a poco dopo le 20 siamo andati in onda in diretta per seguire ovviamente per bene le elezioni comunali abbiamo aspettato che si definisse la situazione a Giulianova e si è definita intorno alle 20 e cioè per dare con sicurezza a chi andava al ballottaggio al ballottaggio sono finiti due esponenti di fatto del centrodestra che si è diviso a Giulianova Ivan Costantini che si è piazzato al primo posto e subito dietro Pietro Tribuiani uno di questi due sarà il prossimo sindaco di Giulianova e uscirà dal ballottaggio del prossimo 9 giugno ma facciamo un riepilogo vi facciamo vedere almeno i visi i volti dei nuovi sindaci dei 22 comuni anzi dei 21 comuni teramani che sono andati al voto perché il 22esimo cioè Giulianova deciderà il sindaco al ballottaggio. Allora rapida carrellata ad Ancarano si doveva solo raggiungere il quorum è stato rieletto sindaco per la terza volta Pietrangelo Panichi e poi andiamo avanti siamo ad Arsita il sindaco è Catiuscia Cacciatore vedete che percentuale ed era il vice sindaco quindi un'elezione in continuità con l'amministrazione uscente. Da Arsita andiamo a Campli il nuovo sindaco è Federico Agostinelli anche qui in continuità con l'amministrazione guidata da Quaresimale poi c'è stato il commissario a Campli comunque ha vinto Agostinelli con il 62,16%. Andiamo ancora a Canzano il nuovo sindaco è Maria Marsili Marsili che subentra invece a Franco Campitelli vedete è stato un testa a testa fino all'ultimo voto si è imposta Maria Marsili con il 48,09%. E poi da Canzano ci spostiamo a Castiglione Messerraimondo il sindaco il nuovo sindaco è Vincenzo Dercole figlio del sindaco precedente e Dercole si è imposto bene con il 58,2%. Poi da Castiglione Messerraimondo andiamo ancora avanti arriviamo a Cellino Attanasio qui si è confermato sindaco con il 64,6% Giuseppe del Papa dunque conferma il suo ruolo a Cellino Attanasio in assoluta continuità. Andiamo ancora avanti e siamo a Cermignano qui il nuovo sindaco è Febo di Berardo con 542 voti e il 50, praticamente il 51% dei consensi nuovo sindaco Febo di Berardo di Cermignano. Da Cermignano ci spostiamo a Colledara qui c'è una conferma il sindaco uscente Manuele Tiberi riconferma il suo ruolo quindi di nuovo sindaco con il 64,6% anche qui una grossa percentuale per Manuele Tiberi. Da Colledara andiamo a Corropoli sindaco in continuità Dantino Vallese già in amministrazione con Dannuntis che è andato invece in regione e qui la sua elezione 2.064 voti praticamente il 78% dei consensi anche qui tanti voti per Dantino Vallese nuovo sindaco di Corropoli. Andiamo a Fano Adriano il nuovo sindaco qui è Luigi Servi. La lista Senso Civico ha ottenuto il 60,8% con 135 voti. Da Fano Adriano ci spostiamo a Giulianova. Questi dati fino a ieri sera poi sono cambiati di poco però vanno al ballottaggio Ivan Costantini alla guida di 6 liste e Pietro Tribuiani alla guida di 4 liste con 4 partiti proprio di centrodestra anche il raggruppamento di Ivan Costantini che era comunque un esponente di Forza Italia sono liste che si possono ricondurre anche se sono vere e proprie liste civiche comunque si possono ricondurre come area al centrodestra. Il ballottaggio sarà tra Costantini e Tribuiani. Poi da Giulianova a Montefino il nuovo sindaco è quello vecchio cioè una riconferma Ernesto Piccari con il 60,4% dei consensi 437 voti dunque Piccari resta sindaco di Montefino. Da Montefino andiamo ancora avanti e troviamo il prossimo comune Morrodoro a Morrodoro. Romina Sulpizi è il nuovo sindaco con il 61,84% dei voti, 1.298 preferenze. Un'affermazione netta per Romina Sulpizi. E poi vediamo ancora cosa manca. Manca Mosciano Sant'Angelo si è riconfermato il sindaco uscente Giuliano Galiffi con 2.772 voti ha ottenuto il 55,47% dei consensi. E poi ancora con Penna Sant'Andrea anche qui una riconferma anche se è stata una bella lotta tra i due contendenti si è imposto Severino Serrani sindaco uscente 597 voti con il 52,09%. E poi da Penna Sant'Andrea ci spostiamo a Pineto si è riconfermato sindaco Robert Verrocchio con 3.054 voti, il 36,14% dei consensi anche a Pineto il centro-destra è arrivato diviso. Insomma tutti i candidati hanno preso una buona percentuale e si è imposto comunque il sindaco uscente Robert Verrocchio. Poi ci siamo quasi arriviamo a Rocca Santa Maria, si è imposto praticamente era una lista a Rocca Santa Maria all'Ino di Giuseppe con 303 voti, il sindaco uscente che viene riconfermato nel paese dei Monti della Laga a Rocca Santa Maria e andiamo poi, abbiamo Sant'Egidio, un altro comune molto importante della nostra provincia e qui c'è stato diciamo un ribaltone anche se la lista di Romandini è una lista civica e trasversale perché Romandini è uno storico esponente del centrodestra però nella sua lista ci sono esponenti del Partito Democratico che è un po' più di centrosinistra e quindi si impone lì c'è Romandini con 3.404 voti, il 58,06% dei consensi e battuto Sirio Talvacchia con 2.209 voti e 37,68% dei consensi. Quindi Romandini è il nuovo sindaco di Sant'Egidio alla vibrata. Da Sant'Egidio ci spostiamo a Sant'Omero, qui invece è stato riconfermato il sindaco uscente Andrea Luzzi, 1.681 voti, si è imposto con il 55,98% dei consensi, praticamente il 56%, una buona affermazione per il sindaco uscente Andrea Luzzi. E poi Torano Nuovo, anche qui in continuità, si impone Anna Ciamariconi che è il nuovo sindaco di Torano con il 63,94% dei voti, 665 preferenze per lei. E poi da Torano ci spostiamo a Torricella Sicura e qui il sindaco è stato riconfermato, Daniele Palumbi di nuovo sindaco con il 66,96% dei voti. Da Torricella poi infine andiamo a Tossicia credo, sì a Tossicia anche qui bastava raggiungere il quorum e il nuovo sindaco è Emanuela Rispoli. Bene, abbiamo fatto questa carrellata, abbiamo visto il volto dei nuovi sindaci dei 21 comuni terramani e Giulianova, abbiamo visto i due candidati che andranno al ballottaggio. Allora, andiamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani e è chiaro che si parla di questo, questo è l'argomento oggi sui giornali. Il centro, Teramo, Lega primo partito, il Carroccio in provincia raggiunge il 38,6%, nel capoluogo supera il 33 comunale, il centro-destra conquista Pescara e Montesilvano al primo turno. Nello specchietto i voti, le percentuali dei partiti per le europee in Abruzzo e poi vedete subito a destra Giulianova, il ballottaggio sarà Costantini, Tribuiani, Arboretti terzo, sparisce il partito democratico e poi per le europee Ranieri e De Blasis sfiorano il seggio, i due abruzzesi primi dei non eletti per Movimento 5 Stelle e Lega e adesso sperano a Pineto. Il centro-destra spaccato regala il bis a Verrocchio e poi negli altri centri Teramani a Mociano resta Galiffia, Sant'Egidio va Romandini e poi andiamo a vedere invece la prima pagina del messaggero d'Abruzzo, vedete che apre con il nuovo sindaco di Pescara e Carlo Masci, il candidato del centro-destra, sfrutta l'effetto Carroccio e Super al primo colpo la Sclocco che guidava un raggruppamento di PD e civiche, Montesilvano incorona subito De Martini, Sa Giulianova si va al ballottaggio, duello Costantini-Tribuiani per le europee, la Lega guida la carica nella circoscrizione sud e poi quei segnali lanciati dal territorio al capitano e ancora invece vedete poi nei principali centri gli scontri che ci sono stati con le percentuali Pescara, Montesilvano e Giulianova e poi le altre notizie molesta le ragazzine sul bus e poi le minacce con un coltello, è successo a Pescara mentre a Teramo aggredisce la ex mentre tiene in braccio il bebè, ancora per il terremoto all'Aquila, nuovo stop per la scuola nel suo palco, Serie B il Delfino adesso pensa a trovare il nuovo pillon dopo l'uscita dai play-off. Questa è la prima pagina del messaggero, vediamo anche la prima pagina della città, eccola qui c'è come apertura notizia di cronaca che riguarda Stanchieri che è stato anche un ex amministratore del Comune di Teramo, un imprenditore, Stanchieri in galera a 81 anni, il costruttore invalido in precarie condizioni di salute sconta una condanna definitiva per bancarotta e poi ovviamente le facce, le facce dei nuovi sindaci, ecco i 21 sindaci eletti in provincia di Teramo, quelli che vi abbiamo appena fatto vedere, mentre a Giulianova ballottaggio tutto a destra tra Costantini e Tribuiani il prossimo 9 giugno, Roseto agronomo controllerà tutte le scuole per quanto riguarda gli alberi che potrebbero essere pericolanti e poi a Teramo addio in toga per i funerali di Sgattoni, per quanto riguarda il calcio, il teramo calcio, il passaggio due diligence di Iachini sui conti del teramo calcio e poi qui sopra il ricorso altar, contact center, Team, Brizila spunta per un documento, poi il tavolo al Mise per quanto riguarda il mercatone 1, obiettivo cassa integrazione e a Roseto Atri e Pineto proteste della CGL sul recapito postale. Bene, adesso torniamo al centro, andiamo a sfogliare il quotidiano dell'Abruzzo, intanto le elezioni europee chi vince per la Lega un trionfo, ruba voti a Forza Italia al Movimento 5 Stelle e poi per quanto riguarda l'Europea il voto in Abruzzo, Ragneri diventa il primo dei non eletti e poi via via tutti i commenti. Qua invece vedete in questo specchio complessivo i sindaci eletti in Abruzzo, Masci, De Martinis e Perazzetti, gli assi del centro-destra e poi andiamo ancora avanti, eccolo qui, Masci sarò sindaco di tutti a Pescara, grazie a papà e a Carlo Pace, abbraccia i figli, annuncia, riparto dalle periferie, riporterò il sole in città e poi tutti i commenti, ovviamente tutti i risultati vedete ancora per Pescara e poi a Montesilvano il nuovo sindaco De Martinis, sindaco subito ora una squadra unita, ovviamente in questi centri bisognava arrivare al 50% più uno dei votanti e questo obiettivo l'ha raggiunto sia Pace che De Martinis a Montesilvano, Masci scusate, Masci il nuovo sindaco di Pescara, poi vedete tutti gli altri centri, andiamo subito a quelli teramani, qui siamo in provincia dell'Aquila, ecco in provincia di Termo, comunali a Giulianova, ballottaggio, Costantini, Tribuiani, il candidato delle civiche in vantaggio su quello della Lega, Bene Arboretti, crollo del PD e dei 5 Stelle, per la prima volta nessun rappresentante dei Democratici, del Partito Democratico sarà eletto in consiglio comunale, niente seggi per la lista dei pentastellati e ovviamente i due in testa preparano il nuovo round, cioè il ballottaggio, eccoli qui sopra Costantini e qui sotto Tribuiani a centro pagina, a sinistra Franco Arboretti che è arrivato terzo con una buona performance. I dati dell'entroterra, Canzano e Cermignano scelgono di cambiare altrove solo conferme, Palumbi centra il terzo mandato consecutivo a Torricella, per Serrani del Papa Tiberie di Giuseppe il secondo, nel segno della continuità anche Tossicia e Fano, Maria Marsili batte di 30 voti l'uscente Campitelli come abbiamo visto prima dalla nostra grafica. E ancora a Campli, fascia tricolore ad Agostinelli che nella foto sta brindando, così cresceremo ancora. Mosciano Sant'Angelo, Galiffi concede il bis e premiati per 5 anni di lavoro intenso. E poi a Pineto, riconfermato Verrocchio Passamonti manca l'obiettivo, l'ex questore arriva ultimo e viene doppiato dal candidato leghista Di Pietrantonio, la vittoria del sindaco uscente uomo del PD agevolata dalle divisioni dell'altro polo. Il vincitore apprezzati dai cittadini, vedete tutte le altre reazioni a Morrodoro invece svolta a destra sul pizzi straccia Maiorani, Valfino nel segno della continuità, Castiglione la poltrona va di padre in figlio e resta dunque in famiglia. Romandini stravince a Sant'Egidio alla Vibrata, la sua civica trasversale con pezzi di PD stacca e il centrodestra di Talvacchia. Gli altri centri della Val Vibrata, Sant'Omero, Corropolo e Torano confermati gli amministratori uscenti. Luzzi batte di Sabatino con 359 voti di differenza, consenso plebiscitario per Vallese, Ciammariconi vincente nella sfida tutta al femminile con Ruffini. Ringrazio l'assessore regionale Pepe per l'impegno e l'esperienza messi in campo per ottenere questi risultati. e poi vedete il resoconto delle comunali nel Chietino, nel Frentano e nel Vastese. Ecco adesso lasciamo caricare anche le pagine, davvero ovviamente oggi è rivoluzionata anche la fogliazione proprio dei giornali in edicola perché si parla di comunali, di elezioni europee e poi comunali, vedete ci sono anche le preferenze, così come il centro le distingue, poi per provincia e per singoli comuni, davvero è corposo, ecco vedete per Giulianova, insomma trovate tutte le preferenze per i singoli candidati in lista. Mercatone 1, per quanto riguarda l'attualità, la cronaca di Maio, obiettivo minimo e la cassa integrazione, questi sono i dati nazionali che riguardano però anche la nostra realtà a Pineto e a Colonnella. Andiamo avanti, andiamo a cercare se ci sono altre notizie di cronaca all'interno. Vedete che oggi il giornale presenta la stessa fogliazione per quanto riguarda tutte le province e siamo alla cronaca di Teramo, il caso dopo la cassazione, stanchiere arrestato per bancarotta, l'ex assessore comunale e noto imprenditore Dile finisce in carcere a 81 anni per scontare una condanna a 4 anni, il legale con l'assistito dice è anziano e malato, presentati i documenti sulle sue condizioni. E poi revoca del Presidente della Team, l'Assemblea slitta a giovedì, assente il curatore Basaglia, qui siamo sempre a Teramo, accordo fra le regioni Abruzzo e Molise, zooprofilattico, arretrati, sbloccati e poi stalking e lesioni, picchia l'ex con la figlia in braccio, a processo un Teramano, quindi è cronaca giudiziaria. Abusi edilizia al Manacara, a Tortoreto, il Tarre spinge il ricorso, il Tribunale dà ragione al Comune di Tortoreto che aveva emesso un'ordinanza di demolizione, intanto alcuni manufatti sarebbero già stati smantellati, mentre a Teramo le Gadit multano 4 inquinatori. Roseto, no del Comune della spiaggia per nudisti, nella riserva del Borsacchio, disposta alla rimozione di cartelli e scritti apparsi negli ultimi giorni, di Girolamo, il Sindaco, dice fin quando sarò Sindaco non daremo le autorizzazioni. E poi il Foro di Teramo in lutto, folla nel Duomo a Teramo per l'addio all'Avvocato Marco Sgattoni, vedete le foto del funerale che c'è stato proprio presso il Duomo di Teramo. Andiamo ancora avanti, le pagine della cultura e degli spettacoli, ovviamente ne trovate sempre tanti, una che riguarda Teramo, studenti in scena a Teramo, Castelli e Isola del Gran Sasso. E poi andiamo verso lo sport, eccolo qui, Cataldo, tanti sacrifici, ora mi godo il premio, riparte intanto il Giro d'Italia dopo il riposo, il calcio di Serie B, Sebastiani sarà un pescare ambizioso dopo l'eliminazione dai play-off. Il Presidente alterna critiche dell'oggi a pillonne sul futuro, il prossimo tecnico uno chiama a lavorare con i giovani. Andiamo a vedere che si dice del Teramo, il Teramo a Iachini entro domenica, la fumata bianca. Bene, lasciamo il centro, ovviamente davvero tanti argomenti che riguardano le elezioni comunali. Andiamo, torniamo alla città, andiamo subito all'interno. Vedete Pescara e Montesilvano che vanno al centro-destra con Masci e De Martinis. E poi saltiamo le pubblicità, elezioni europee nel Teramano, in Abruzzo nel Teramano, strapotere di Lega in Abruzzo e nel Teramano e ci avrete tutti i dati per chi dovrà leggere con attenzione sia per quanto riguarda le europee in regione che in provincia di Teramo. Poi il commento di Nopepe Plaudio al risultato del centro-sinistra Teramano alle comunali. A Giulianova va all'ottaggio Costantini Tribuiani, sfida all'ultimo voto con Arboretti ma la partita è tutta nel centro-destra. Si torna alle urne il 9 giugno e vedete in questi specchietti riassuntivi i voti per il candidato sindaco e per i singoli candidati consiglieri. E poi a Corropoli una valanga di voti per Dantino Vallese. Il vice sindaco uscente si impone con il 78% delle preferenze. Pineto conferma per il sindaco Verrocchio il primo cittadino uscente si impone su un centro-destra spaccato e sul Movimento 5 Stelle. Elicio Romandini, nuovo sindaco di Sant'Egidio, il candidato della lista civica ex centro-destra, spodesta il centro-destra dopo dieci anni di governo. Vince Agostinelli nel segno della continuità a Campli. L'assessore uscente raccoglie più del 60% dei consensi nella sfida contro Maurizio Di Stefano. Galiffi resta alla guida di Mosciano Sant'Angelo. Il sindaco uscente stacca la lista di Maria Cristina Cianella. Essa giudica il secondo mandato. Tutti i risultati degli altri comuni al voto. Tante riconferme qualche sorpresa nei territori terramani. Chiamate ad eleggere il nuovo primo cittadino. L'abbiamo visti tutti e ovviamente la città riporta tutti i nuovi eletti con i dati anche per le liste e quindi per i candidati consiglieri. La cronaca a Teramo. Il costruttore stanchieri in galera, 81 anni, invalido in precarie condizioni di salute, da una settimana a Castrogno per una sentenza definitiva per Bancarotta. Ex politico Quintino Stanchieri è stato più volte assessore e vice sindaco nelle giunte di Ignazio e Gatti. E poi l'altro argomento. La Camera di Commercio. La sede resti a Teramo. Il sindaco D'Alberto scrive a Di Maio per la Camera di Commercio. E per l'IZS arrivano i fondi per i contratti integrativi attesi dal 2011. Contact Center Theam. Brizzi la spunta per una carta di identità. Il Tar dice la società concorrente non poteva partecipare alla gara per un vizio nella busta dell'offerta. Ambiente scoperti e multati furbetti della spazzatura. E poi è stato arrestato il rapinatore di Mauro Dubaldo. Era successo a Teramo. I carabinieri hanno arrestato il 22enne nigeriano su ordine del GIP. Lutto nella giustizia. Addio in toga ai funerali dell'avvocato Sgattoni. Una città commossa ieri si è stretta alla famiglia dell'avvocato stroncato da un infarto fulminante a soli 48 anni. Andiamo ancora avanti. Il servizio postale è impeggioramento. La CGL denuncia la situazione di Roseto, Pineto e Atri. Pochi portalettere, orari massacranti di servizi all'utenza. Intanto la gara particolare di raccolta degli asparagi. Roberto, Fernando e i fratelli di Carlo vincono la gara degli asparagi AX. Mercatone 1, obiettivo cassa integrazione. Domani al Mise, tavolo tecnico con Di Maio. Oltre ai 1.800 dipendenti in ballo 10.000 fornitori e i clienti in evasi. Siamo a Giulianova, sabato riapre la spiaggia Unica Beach. Aperidog e tante novità nell'area per cani, attrezzata dalla Branella. Festival delle bande musicali a Giulianova, anteprima con l'orchestra Lorenzo De Gidio e la banda dell'Honduras. A Roseto, un agronomo verificherà tutte le piante all'interno delle scuole, dei giardini delle scuole. Dopo il crollo alla scuola di Via Piemonte, il Comune assume iniziative drastiche per stare sicuri. Cartelli abusivi, al Borsacchio non c'è una spiaggia per nudisti. C'è il logo del Comune ma non sono mai stati autorizzati. Si rischia la sanzione, è intervenuto il sindaco. Le pagine della cultura, noi tra poco avremo qui con noi proprio il curatore, il responsabile delle pagine della cultura della città, va a dire Simone Gambacorta. Quello che ha messo oggi in pagina, la preghiera, coraggio da leone. Paola Mastrocola al Teatro Comunale di Atri con gli studenti dell'Istituto Zoli. Ancora 200 anni di infinito flash mob Leopardi in tutta Italia, voluta dal MIUR, la maratona di lettura della poesia in scuole, piazze e biblioteche. Una bella iniziativa. E poi lo sport. Teramo comincia la settimana delle carte, l'analisi dei conti al vaglio. Ieri l'incontro con Capaldi che anche oggi vedrà di nuovo Iachini. Intanto al tennis club Roseto, Bianchini resta presidente. Ancora calcio, torrese, niente da fare. Stravince Porto Sant'Elpidio e poi il basket. Costa adesso più fiducia in me stesso. Il playmaker bianco-rosso del Teramo ha ritrovato smalto in questa stagione. Grazie a Domizioli per la fiducia. Termina il sogno della Teramo a spicchi. La Taspa, sì, si vince anche gara tre. Si chiude la terza stagione in cui la squadra del presidente Nardi gioca la post-season. Annata bella, solo il finale è amaro. Bene, tutto anche per quanto riguarda la città. Adesso torniamo a dare un'occhiata al messaggero. Abbiamo già visto la prima pagina, ma andiamo subito all'interno. Abbiamo già dato conto di Carlo Masci che ha vinto al primo turno e torna così il centrodestra a Pescara. Grillini sotto shock a Pescara. Adesso faremo opposizione dura. Invece a Montesilvano la Lega sfonda De Martini, seletto al primo turno. Abruzzo al voto a Giulianova. Costantini, Tribuiani si va allo spareggio. Consultazione sul filo del rasoio. Composizioni più volte cambiate. Arboretti è il grande escluso. Ballottaggio tra liste di destra. E vedete nelle foto l'esultanza di Costantini. Poi Tribuiani sta guardando i dati. Alla fine la delusione per Arboretti che è andato davvero vicino alla possibilità di andare al ballottaggio. Sorpresa dalle urne nelle schede. Diamo forza agli amicacci. E poi l'amarezza di Filipponi del PD e dal grillino di Criscenzo. Anche accuse incrociate. A Sant'Egidio la vibrata vince Romandini con il PD. Corropoli eletto Vallese per il centrodestra. Torano sfida tra due donne. La spunta Ciammariconi. Sant'Omero secondo mandato per Luzzi. Panichi ad Ancarano. Poi vedete all'Aquila, a Fossa Cese. Insomma ovviamente si è votato in tutto l'Abruzzo e anche in tanti comuni del Chietino. Andiamo ancora alla pagina per quanto riguarda la cronaca a Teramo. Il nuovo centro per l'impiego nell'ex Palazzo della Sanità. Intesa con il municipio anche se per Roseto e Pineto si paventa già la chiusura anticipata. Oltre 400 metri quadrati a disposizione. I navigator saranno in azione da settembre. Pier Giorgio Tittarelli dice non ancora disponibili le credit card perché c'è un problema tecnico. Di spalla a sinistra la fusione delle camere di commercio. Ad Alberto, il sinego di Teramo contro, chiede sostegno a Luigi Di Maio. E poi i colleghi in toga per l'avvocato Marco Sgattoni per il funerale che si è tenuto in Duomo a Teramo. E poi in Val Vibrata minaccia la ex con il bebè in braccio e finisce a giudizio. Chiusura della Mercatone 1, Fioretti al Mise, al Ministero per lo Sviluppo Economico. Tavolo al Mise, i dipendenti tagliati in Abruzzo sono oltre 100. Bene, questo per quanto riguarda la cronaca di Teramo del messaggero. E poi lo sport, il calcio. Pescara pensa al dopo Pilon, l'addio del tecnico, apre il casting. Stellone e Iuric sarebbero i sogni, Camplone, la scelta del cuore, Zaurio, Grassadonia. Le piste percorribili. E poi siamo al Teramo. Maurizzi piace anche al nuovo corso. Il mister che ha già il contratto dovrebbe restare con Iachini. Un discorso diverso con il DS Federico che rimane in stand-by. E poi Amatori Pescara, adesso sono vietati passi falsi. E ancora Patron De Paulis, l'Aquila, aspetta cosa decide Fedeli. L'Aquila calcio. E poi le ragazze del Montesivano stasera cercano la finalissima per quel che riguarda il futsal. E tutto anche per il messaggero. Bene, abbiamo concluso la nostra rassegna stampa, come avete visto, ma era ovviamente ovvio che i giornali si sarebbero occupati alla grande delle elezioni europee, ma soprattutto delle elezioni comunali. Adesso, prima della nostra chiacchierata con Simone Gambacorta, le previsioni del tempo curate come sempre da Marco Di Loreto e Pierluigi Casalena. E quindi poi breve pausa pubblicitaria e torneremo qui in compagnia di Simone Gambacorta. A tra poco. Buongiorno amici di Super J. La goccia fredda continua a risalire la nostra penisola. E come si nota bene dalla rotazione ciclonica, sta muovendosi verso nord-est. Nella giornata odierna insisterà, tempo perturbato sulla parte orientale del centro-nord, ma rispetto a ieri ci sarà più spazio per fasi più tranquille. Ed anche il sole potrà fare timidamente la sua comparsa, in particolare nella seconda parte di giornata. In serata però, un altro impulso freddo in azione sul centro Europa giungerà sulle Alpi e poi si spingerà verso le regioni del centro-nord domani, favorendo nuove piogge temporali. Vista l'aria fredda, in arrivo farà ricomparsa anche la neve sulle Alpi e sugli Appennini e oltre i 2000 metri di quota. Soltanto nella serata notte di giovedì l'intero impulso freddo si sposterà verso Levante, ma nel frangente tempo da Occidente avanzerà verso la nostra penisola un'anza anticiclonica, che potrebbe conquistare l'Italia nel primo weekend di giugno, garantendo tempo più soleggiato in un contesto termico molto mite. Non sembra trattarsi di un anticiclone forte, pertanto non mi sento di dire che sarà l'avvio di una lunga fase stabile, ma certamente potrebbe rappresentare una novità rispetto al trend perturbato vissuto a maggio. Nello specifico per l'Abruzzo ci attende un martedì all'insegna dell'instabilità, in particolare sui rilievi e zone interne, ma con ampi spazi anche per fasi irregolarmente nuvolose. La ventilazione rimarrà debole dai quadranti meridionali, mentre il mare tenderà a diminuire il suo motondoso. Le temperature rimarranno stazionari o al più subiranno un leggero aumento diurno, con valori massimi compresi tra 15 e 19 gradi, ed una leggera diminuzione per quanto riguarda le minime, comprese tra 5 e 10 gradi. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.